Yo benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui dopo tanto tempo per fare una cosa che avevate richiesto avevo detto che al raggiungimento dei 50 like dopo che avevamo provato la texture 1024x avrei provato la 2048x e signori eccola qui per tutti noi 2048x per la versione 1.12.2 pesa 3 giga e 57 solo questa texture già so che i miei giga di base non basteranno quindi devo alzarli almeno a 10 giga e sperare che tutto vada bene vi dirò un'altra cosa, se questo video raggiunge di nuovo i 50 like proveremo insieme alla texture le shaders e le foglie in alta definizione sperando che comunque il mio pc continui a reggere tutto perché secondo me la vedo dura per le shaders ok ci ha messo tipo 5 minuti per avvegliarsi minecraft madonna e direi di provare ad andare sui pixel la madonna vabbè ma di che cazzo stiamo parlando di cosa stiamo parlando cioè questo sembra il marciapiede fuori casa mia ve lo giuro è identico è la stessa identica cosa proviamo a girare un attimo qualche lobby con qualche blocco diverso se vabbè proviamo a fare una sky wars tu ti mettono questo screen davanti a te così tu diresti che questo è minecraft no ti mettono davanti a te in f1 una foto del genere tu non diresti mai nella vita che questo è uno scalino su minecraft guarda qui che figata che figata le foglie sono default perché appunto si dovrebbe aggiungere quell'altra cosa questa arbetta boh sembra le piante che mettono dietro i video per fare sfondo alcuni blocchi e gli utensili sono default perché se avessero fatto anche gli oggetti in alta definizione probabilmente neanche i pc della nasa sarebbero stati in grado di riuscire a reggere questa texture guarda qui la gabbia che figa che è guarda qui pure la gabbia il legno ce l'abbiamo visto nel vecchio pack che è figo in culo non c'è bisogno di ripeterlo guarda là quanto è bello guarda lì la texture appunto come ho detto all'inizio in 1.12.2 e diciamo che io non vado molto d'accordo con le versioni recenti per fare pvp però 1.12.2 è molto migliore di 1.16 infatti ho molte più speranze che io riesca a fare qualcosa di decente in questa versione che nell'altra provo a pusciare provo a pusciare addirittura fast bridgeando salve se è chiuso dentro questo ma io mi porto sempre tu il dietro zio non ti basta chiuderti dentro per scappare da me perfetto sistemiamo l'inventario così questo via questo lo mettiamo tutta sta roba via qui c'è un altro tipo i suoi pantaloni mi interessano quindi li voglio si tira mi le uova che io tra poco ti tiro il cazzo hittato dove che vuoi andare precisamente? non ti vorrei buttare giù perchè voglio i tuoi pantaloni ok grazie mille meno male che si trovano ancora player gentili che tu gli chiedi la cosa e loro lo fanno e sono rimasto in 1v1 attenzione siamo rimasti in 2 sai che forse riesco a vincerla? è messo benissimo però non ha tutta la vita sei cuori mezzo che parti col sapere non meno un cazzo oh addirittura una win ma di cosa stiamo parlando? a proposito ma un like per la gopro l'avete lasciato? lo lasci il like per la gopro? e che cazzo? vi ricordo che in descrizione trovate il canale telegram per stare aggiornati sulle live sui video anteprime e cose che non posso dire nei video e da poco ho anche aperto un server discord server discord che useremo per parlare insieme per cazzeggiare per divertirci e soprattutto per le live specialmente di Among Us perché chi è sul server discord può gioinare in live e giocare insieme a noi ad Among Us detto questo nullo ormai io mi ci sto abituando a vedere i blocchi con una definizione così alta sono sul serio una goduria sono bellissimi da vedere i bug di epixel però un po' meno i bug che non sono ottimizzati bene per le versioni più recenti però ti ho distrutto lo stesso e tu mi vuoi rubare la kill? ma che brutta persona sei no cazzo oh ma ti vedi un po' uno scioppone del BL che si fa distruggere da 1 in 1 12 2 ah se lo sapesse se lo sapesse ci prendiamo questa ci leviamo questo la road con knockback 2 va bene così perfetto e ora pushiamo il tizio che prima stava scappando dove cazzo è andato? l'acqua vabbè ti chiudo il gioco e via a posto così ma per sicurezza che tu ti voglia salvare ti tiro anche un po' di frecciate perfetto ora siamo arrivati di nuovo in 1 v 1 contro quel tizio che è lì sulla destra l'ho visto con la coda dell'occhio ho un arco e perchè non usarlo prima frecciata seconda frecciata anche lui un arco terza frecciata ah un silverfish ok quarta frecciata quinta frecciata ho perso il conto delle frecciate ha una perla perfetto ce l'ho anch'io bello mio però c'è mezzo cuore gg easy win 4 kill ok signori ultimo game direi che abbiamo mostrato le performance di questa texture di quanto possa essere figo in culo ricordo che appunto c'è di nuovo una sfida dei like per provare le shaders se me le regge e le foglie in alta definizione e nulla questo tizio vuoi dire che è il tizio di prima si è il tizio di prima quindi ora mi vuole bo spammare che carino che sei che carino ma io ti distruggo lo stesso lo sai vero lo sai che ti distruggo lo stesso oh cucciolo lui che carino ok questa è tanta roba questa è tanta roba lì devi illustrare instant perfetto easy buono 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 puoi avere tutti i vantaggi in pvp che vuoi però se non sei 200 q come me non riesci a killarmi ora abbiamo un arco power 1 tanta roba quello lì c'è una spada buona e c'ha l'elmetto che mi interessa e c'ha soltanto 4 cuori ma ho vinto di nuovo ma sono una bestia sono una cazzo di bestia scherzo in realtà è figo in culo giocare con questa texture quindi voglio continuare usciamo questo qui di lato che non ha ben capito a cosa sta giocando perfetto meno uno comunque per il quanto abbiano cercato di levare la roba che appunto i colpi sono caricati non entrano tutte le hit me ne sto accorgendo tantissimo che non entrano tutte le hit fa difficoltà proprio a registrarle fa proprio un sacco di difficoltà proviamo ad andare al centro guarda qua quanto è bello sto legno bug che vabbè si sa che ci sono l'abbiamo già visti nel mio ultimo video che ho fatto in una versione recente di minecraft e provere a push questo tizio tanto che ci frega che ci importa è uno scioppone delle ali del BL che però ha 5 cuori potrei approfittare che ne ha preso danno mamma vabbè vabbè sono rotto mi dovete nerfare su questo gioco sul serio urge un nerf ho sentito prendere danno dove cazzo ecco il tizio io ho sentito prendere danno il tizio però non lo vedo questa cosa mi preoccupa eccolo qui era al piano di sopra salve disturbo grazie mille per la cortesia oh ehi sei messo bene bro sei messo sul serio bene hai bisogno di un paio di frecciate di consolazione e poi ti pusho così gg un'altra win vabbè ormai di che stiamo parlando detto questo nulla spero che il video vi sia piaciuto ricordo di lasciare like e di unirvi sul canale telegram e sul discord da poco aperto ci si becca nel prossimo video bello grazie a tutti